Cosmo, cazzate, Radio Chaos Italy punto com, avanti tutto, abbiamo appena salutato eh Roberto sempre bene, Andrea Guglielmino e i loro videogame, sta per entrare, sta per entrare il nostro Marti al secolo Andrea Bruschi, eccolo qui. Andrea Bruschi è qui, sentite la sua voce, insomma, posso buttare qui, sì, no, guarda, puoi anche appoggiarlo qui. Ma più che sentire la sua voce, io osserverei. Eh no, e dico il 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 paltoni wave. Allora adesso, adesso ragazzi, facciamo una diretta radiofonica sul su Facebook perché voglio che ammirate il look del nostro oh ragazzi, ci ha portato pure guardatela, fai vedere questa cover, allora eccolo qui, Marti è il suo nuovo disco, King of the Minibar, guardate che bello, allarghiamo un po', tac, eccolo qui, meraviglioso, meraviglioso. Lavoro dalla grafica veramente straordinaria, meravigliosa. E allora Marti questa sera ci parla di King of the Minibar, ha portato anche il vinile, sono due o è uno? È uno, ma poi lo svelo se vuoi dopo. Dopo lo svegliamo. Il copertino è del grande maestro Igort. Eccolo lì. Uno dei più bravi fumettisti. Assolutamente. Ah. Marti, noi ti abbiamo fortemente voluto qui perché il disco è bellissimo, io te lo dico senza, proprio senza vergogna, senza filtri. Senza bonita. Ragazzi, The King of the Minibar, andate a cercarlo anche su YouTube, trovate delle canzoni molto belle, interessanti, appunto anche il singolo The King of the Minibar che poi ci spiegherai. Tra poco, tra poco, prima, dopo la pubblicità ascolteremo i pezzi, un paio di pezzi, forse tre, del dell'ultimo album di Marti e ne parleremo in maniera approfondita. Adesso ci ascoltiamo con la pesce featuring Meg, con i suoi satelliti e poi torniamo a parlare con Marti della sua musica, di tutto quello che fa. Certo. King of the Minibar, noi ce l'abbiamo qui, il re del Minibar. Andrea Bruschi in arte Marti. Oh, su Avanti Tutta, Radio Chaos Italy, 392-77-56445. Ragazzi, una voce fantastica, Marti è qui con noi per presentare il suo fantastico, bellissimo, per forma e sostanza, ultimo album, che si chiama come questo singolo. King of the Minibar. Sono commosso. No, 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 anche noi siamo commosso. È giusto, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ci siamo trovati nei gusti musicali. Sì, sì, è nato un amore. Intanto Camillo ha disarciomato il microfono dall'asta e se la sta comandando. Sembra Vittorio Salvetti. Oh, perfetto. No, no, ecco, al Festival Bar, magari. Il buon Vittorio Salvetti, pace all'anima sua. No, voglio dire che questa, questa canzone mi mette voglia di prendere un microfono e di cantare, ragazzi. Eh, che bellezza. Di cantare. 1997. Eh, ecco, no, in questo caso siamo invece nel 2017, siamo in tempi molto più recenti. Ed esce King of the Minibar, ragazzi. Complimenti. Bene, ce l'abbiamo fatto. È bellissimo. Registrato. Tra Londra e Berlino, mi dicono. In tre lunghi anni, tre lunghi anni di gestione, sì. Tre lunghi anni, Londra e Berlino. Perché Londra e Berlino? Perché a Berlino vivi? E a Berlino ho vissuto, diciamo, ho ancora la casa, chissà, non so quanto mi fermerò ancora. Bene, quindi la notizia è che abbiamo un appoggio a Berlino. A Berlino. Quello tranquillo. Ok. Per nove anni ho vissuto a Berlino e lì ho conosciuto James Cook, che è il produttore artistico del disco, che è un bravissimo musicista e produttore inglese, che però anche lui si è trasferito a Berlino per vivere questa magnifica città, forse nei suoi ultimi anni di grande gloria, dove gli artisti di tutto il mondo si incontrano e quindi siamo stati parte o siamo ancora parte di questa grande ondata. Lì ho conosciuto James tramite, tra l'altro, un altro musicista inglese, Anthony Reynolds, di una band che si chiamava I Jack, che è una bellissima band, e da lì abbiamo iniziato a pensare a questo disco. Io volevo fare un disco che concludesse la trilogia dei precedenti, che fosse veramente il disco che sognavo di fare quando ero ragazzo, cioè un disco internazionale, con musicisti internazionali, a Berlino, cioè iniziarlo a Berlino, che è la patria poi dove sono stati registrati i dischi che mi hanno formato. Che ti hanno formato musicalmente, che ti hanno formato dal punto culturale. Eh sì, possiamo anche dire quali sono, o anche no. Come vuoi. No, citane qualcuno che avrò piacere di ascoltare. Io me lo fai svenire stasera. Sì, di sicuro, ragazzi. Beh, Jansa Studios, io quando sono andato a Berlino la prima volta, negli anni 80 sono andato agli Jansa Studios, perché ci hanno registrato il finale di uno dei dischi più belli di Bowie, che è Low, secondo me, poi Heroes, ovviamente, poi ci hanno fatto David Silvian, Brilliant Trees, il suo disco solista. Aia, 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 no, David Silvian è un altro degli amori, fantastico, no, ragazzi. Poi Some Great Reward di Depeche Mode, Black Celebration. Volete che vi lasciamo due minuti da soli? No, no, Some Great Reward è il quarto album di Depeche Mode che porta Depeche Mode ad essere conosciuti. a livello mondiale con, in particolare, con People Are People, ma non solo, ma in particolare con People Are People. Master and Servants. E Master and Servants subito dopo. Perché all'epoca Depeche Mode erano a Berlino. Come no, certo. Ci trovavano a Berlino. Sono stati, sono stati i primi, i primi, poi insieme a Nick Cave penso a trasferirsi a Berlino sull'ondata sia del fatto che la loro musica era molto apprezzata, la Germania era diventato il loro primo mercato e poi Gareth Jones, che era il loro ingegnere del suono, lavorava con di Suzen e Noi Byten e quindi loro interessati anche al poter utilizzare i campionatori. Altra benda assolutamente seminale. Ci fermiamo un attimo qui e continuiamo a parlare di Marty tra poco, ma ci ascoltiamo un altro pezzo tratto dall'ultimo album King of the Minibar, questo è Black Waltz. Dopo ci spieghi anche cosa vuol dire certo, vi dico anche che è dedicata la canzone. Esatto, va bene, ascoltiamocela tutta e poi torniamo qui davanti tutta. A fra poco. È un grande amore. È un grande amore, sì certo, che non finirà mai. Questa voce che sentivamo in chiusura quasi del brano. Sì, allora, è una cantante bravissima, è una cantante d'opera del Covent Garden, del Teatro dell'Opera di Londra e tramite James il disco appunto stavamo raccontando da Berlino, l'abbiamo trasportato a Londra perché lui conoscendo tantissimi musicisti e poi un po' ci teneva anch'io ad avere quei suoni, quei colori, come ben sai, che si possano avere solo dai musicisti inglesi e se registro un disco a Londra. Se tu lo fai, lo fai succedere in Italia, non accade questa cosa. C'è un motivo, c'è un motivo. L'energia del luogo. L'energia del luogo e poi è proprio la storia pop. Se tu vai a fare il caffè a Napoli perché è buono? Valla a spiegare. È uguale, è uguale. Qualcuno dirrebbe, è una questione d'acqua. È una questione d'acqua. È già il marrone di suo, quindi contribuisce. E quindi è una questione d'acqua anche il disco dei Marti. Cioè i suoni... In un certo senso, sì, di elementi vitali. Certo. Poi io vengo dall'acqua, essendo di Genova, che non l'abbiamo detto. Hai parlato in plurale, nel senso che hai detto dei Marti e quindi salutiamo anche gli altri... Certo. Claudio Natili, che è la contrabassista e bassista, e Simone Maggi, che è il mio braccio destro. Entrambi mi seguono dal primo disco e sono essenziali per me. E allora la promessa, ragazzi, che Marti tornerà prossimamente a suonare qualcosa qui live per noi e ci racconterà anche tante altre cose. Magari Porto Simone, che è al piano, suona un po' tutto. Sì, se la cava il ragazzo. Se la cava, se la cava. Possiamo far entrare un pianoforte qui come... No, una tastiera. Esatto. È una battuta, Marti. È una battuta. Qualcosa troviamo. Un'orchestra, un'orchestra. Quindi insomma, Berlino, Londra e tu dopo tre anni riesci a partorire questo disco, che è il tuo terzo disco. È il mio terzo disco, sì. E quanti brani ci sono nel disco? Nel disco dieci, perché la storia del disco è che le dieci canzoni sono ambientate in dieci stanze di quest'hotel. Infatti, aspetta non mi posso staccare la copertina del disco, come vedete, potrebbe essere un ipotetico Marti che guarda fuori con la ragazza che fuma, quindi... È un po', se posso dire, di ispirazione anche operiana. Eh beh, certo, certo. Lo posso dire? Noir, Hopper. Mi piace tanto anche per questo, perché io adoro Hopper. Quanto mi fa sentire ignorante. Va beh, Hopper insomma dipingeva questi soggetti delle metropoli contemporanei degli anni 20, 30, dove appunto... Aveva intuito che gli spazi, che gli oggetti parlavano da solo, le persone, anche di schiena, insomma, era... Meraviglioso. Scherzavo, so chi è. Dennis, tu stai dicendo. No, vero. Quello di Easy Rider. Quello di Easy Rider. Bravo. Eh insomma, no, veramente con Marti potremmo parlare di tutto, ma... Scopriamo un personaggio anche simpatico. Pensavi che fossi agido. No, però, però non conoscendoti dall'ascolto del disco si poteva pensare a un bel tenebrone. Però scusate se... In questo modo... Perché è una cosa che ho notato nelle canzoni anche, se mi permetti. Al di là dell'orchestrazione molto bella. Certo. Mi permetto di dire, c'è un songwriting eccellente a mio avviso. E scatta il bonifico. E chiaramente, chiaramente. E ti faccio i complimenti anche per questo, ma noto comunque una sorta di ironia anche. Beh, era... Ti ringrazio. C'è un divertissement quasi... Doppio bonifico. Vedete ragazzi, stasera sono diventato ricco. No, ti ringrazio. Hai ascoltato... Mi fa piacere. In effetti, siccome i primi due dischi erano comunque molto seriosi... Più oscuri, certo. Sì, più oscuri, malinconici. Allora, devo dire, l'intervento è stato anche di James, del produttore, ma anch'io volevo staccarmi un po' da questa cosa di essere troppo melanconico. Ci sono dei brani molto malinconici, ma... Però sei o sette invece sono molto veloci, divertenti, accattivanti, con un'ironia che... C'è una sorta di nostalgia che comunque pervade questo prodotto. Sì, certo, certo. È vero. Però ho notato anche la voglia quasi di non prendersi sempre troppo sul serio da parte E questo aspetto nostalgico e questa voglia di non prendersi troppo sul serio la ritroviamo nel giardino di Marti o non la ritroviamo? In My Garden, no. In My Garden chiude, ovviamente, è il decimo racconto, no? Chiude l'album e l'album volevo chiuderlo proprio in maniera romantica. La storia di questa canzone, anche se le canzoni non la spiegherò, ma questa canzone è stata scritta perché la stanza che ho a Berlino dà su un cimitero che è un giardino enorme e l'ultimo dell'anno ero in casa e mi è nata questa canzone in My Garden e volevo che avesse dei suoni tipici di un certo tipo di musica pop gotica inglese, cioè Mark Almond, se vogliamo Nick Cave, tutta un'onda insomma melanconica, strappalacrime quindi in My Garden non è così ironica. Però... Bene, allora noi l'ascoltiamo e poi magari dopo ne riparliamo bene. Magari dopo per compensare ci racconti una barzelletta. Certo, in tedesco però. Ah, lei! E dai, a ring! In My Garden è l'ultimo brano che chiude, King of the Minibar, l'album di Marti appena uscito. E arrivano apprezzamenti anche sui social. Ah, davvero? Bene. Sì, arrivano dei messaggi. Salutiamo anche Gioacchino che ci ascolta da Messina che stava ascoltando. Ha detto, ficcata il titolo di questo album. Lo ringrazio, grazie Gioacchino. Insomma, gli è piaciuto tanto. Vabbè, anche altri messaggi qui. Giovanni da Torino, Giuseppe da Modena. E... Camillo. Abbiamo aperto tutto l'arco istituzionale del paese. Beh, a noi si ascoltano tutti perché chiaramente web radio ormai il verbo è diffuso, no? In tutto il mondo. Il Uerbo. Il Uerbo. Il Uerbo. Quindi, che dire, questo disco è bello dal punto di vista testuale, dal punto di vista degli arrangiamenti. No, no, fatemi esaltare una volta tanto, Santa Pace. Da un punto di vista testuale, degli arrangiamenti, del songwriting che ci tengo a dire che secondo me è una delle cose fondamentali che purtroppo spesso viene messo da parte. Quindi, questo spirito, questa atmosfera quasi senza tempo, produttori importanti, musicisti importanti, registrati da Berlino e Londra, ma tu perché ti chiami Marti? Siamo curiosi, siamo curiosi. Perché? Esiste la storia di perché mi chiamo Marti ed è sì fatta. Allora, circa dieci, dodici anni fa... L'hai presa larga? L'ho presa larga. Beh, i Marti esistono da dieci anni. Eh beh, è giusto. Un mio amico regista, Beniamino Catena, che poi è diventato un grande regista di fiction e di videoclip italiano, mi chiese se volevo fare il protagonista di un suo film, un piccolo film indipendente, era all'inizio proprio del digitale e tutto ambientato a Genova, di notte, pioveva sempre in questa sceneggiatura e questo personaggio, il protagonista, faceva il parcheggiatore notturno, però era un seduttore seriale, però con problemi, non riusciva a rapportarsi con le donne. La faccio molto breve per dire che poi alla fine, quando c'è l'alluvione a Genova, lui ha anche un talento idraulico, quindi sbloccherà i problemi idraulici della città, salverà la città e salva anche se stesso. Ora, la storia era questa e il personaggio aveva anche una sua band musicale, cioè lui era un po' anche, come possiamo dire, androgeno, quindi aveva una band New Wave e la notte cantava queste canzoni. Quindi il regista mi disse, ma tu puoi cantare? Fai, dico, no ma certo, io ho appena messo in piedi una band, perché non mettiamo la mia band? Ma la band, come si chiama? E lui gli disse, ma guarda, la band non ha nome, perché siamo, non so ancora, avevo delle idee. Abbiamo ancora il cielo, Fai. Esatto. E io gli disse, ma scusami, ma il personaggio, come si chiama nel film? E lui mi ha detto, ma il film inizia con una voce narrante che dice, mi chiamo Martino, ma tutti mi chiamano Marti. No. Perfetto, il nome della band è Marti. È questo. È fantastico. Poi il film non si è mai fatto, però Marti ha fatto tre dischi. Marti ha fatto tre dischi, ragazzi. L'ho presa un po' lunga, però vedi. King of the Minibar, l'ultimo album di Marti, però, che ci hai portato qui anche, insomma, il disco, il vinile. Come no, l'abbiamo fatto vedere, no? Ma pensate il vinile? No, l'abbiamo fatto vedere. Voi te lo faccio vedere, non dobbiamo chiudere. Ma facciamolo rivedere anche a chi ci osserva dall'alto, dall'alto della testa di Federico Rojo. Dicevo, acquistatelo questo vinile perché ne vale veramente la pena. Ah, assolutamente. È un'opera, oltre che musicale, è un'opera grafica. Sentite il rumore. Adesso vi facciamo ascoltare il rumore. Allora, fermi tutti. Il rumore del vinile che viene spoderato dal suo astuccio. 180 grammi, blu elettrico. Bellissimo. Ragazzi, io mi fermerei qui, poserei le cuffie e andrei a casa. E andrei a casa. Ma non possiamo. Ma non possiamo. Perché abbiamo ancora Marti qui con noi, perché dobbiamo continuare a finire alle 21, anche se dopo di noi ci saranno i ragazzi e stregati della vita, anche perché Federico Rojo è venuto apposta per noi stasera. Pensa, però possiamo mandarlo via. Volevo dire che dentro c'è anche il CD, faccio un po' di promozione. Allora, non possiamo far ascoltare il sfoderamento anche del CD perché non ha molto senso. Però posso dire dove acquistare il disco. Ah beh, quello è ovunque. Allora, l'etichetta che abbiamo fondato, che è un movimento artistico, si chiama Cassavetes Connection. Quindi, scritto come regista greco e greco-americano Cassavetes, Cassavetes Connection, King of the Minibar, lo potete acquistare direttamente sul sito. Ah, ok. E poi ci sarebbe tutto un discorso su John Cassavetes. Va bene. Quello ve lo fate in privato per conto vostro. Colgo l'occasione, visto che siamo nei credits, per ringraziare la Morning Bell e Sebastiano Giordani. Certo. Facciamogli un saluto. Abbiamo pianificato, insomma, questo incontro che sta avvenendo qui. Vi ringrazio di avermi avuto, come dicono. Thanks for having me. No, ma grazie a te perché è sempre un piacere, oltre che ascoltare della musica pazzesca come quella tua, anche conoscere delle persone pazzesche. E tu sei troppo gentile. No, no, no. Ah, beh, è così, ragazzi. No, si può dire, sei un personaggio fighissimo, sei fantastico. No, eh, beh. E poi, signori, posso dirlo che spoggia anche dei calzini, poi dopo faremo anche una foto dei calzini. Assolutamente. Che calzini ho, sai che non mi... Allora, aspetta, fermi tutti. Con dei dati... Fermi tutti, allora. Li ho notati subito. Li ho notati subito. Fermi tutti, perché qui attiviamo subito il tutto. Il calzino di Marti. Allora, il calzino di Marti, tra poco in diretta. Allora, eccolo qui. Perché, come tutta la sua musica, Marti non lascia nulla al caso. Ogni dettaglio è fondamentale. Sono i dettagli che fanno la differenza, bravo. Il calzino di Marti, adesso in diretta anche sulla pagina Facebook. L'hai fotografato? No, lo stiamo mandando in diretta. Eccolo qui. Ecco, ragazzi. La vita è un gioco di dadi, niente di più. A parte i dadi, ecco, vado un po' di focus. Ecco qui. C'è anche una... Come si diceva? Io temevo anche che avesse il reggi calze, visto il personaggio. Ci potrebbe stare. Col tappetaccio pieno di pollini che il nostro Federico Rossi ha piazzato qui in radio. No, non è vero, non è vero. Non è colpa sua. C'era già prima di Federico. C'era già prima di Federico, dal 2007. Ma, allora, Raff, io direi, Marti, facciamo rivedere un altro po' il tuo... La cover, no, no, l'album. Il tuo album, eccolo qui, Marti, King of the Minibar. Possiamo dire il sito dove si può acquistare l'album? L'album si può acquistare sul sito CassavetesConnection.com Cioè Cassavetes è scritto con la C, W-A-S, CassavetesConnection.com Poi sarà... E poi, vabbè, ovviamente è scaricabile su iTunes, è su 270 portali, ovunque, insomma. Team Music, Amazon... Non sui siti che frequenta Camilla. No, non quelli lì, ragazzi, mi raccomando. Anche su quelli.